Si sono svolti al Duomo di Messina i funerali di Davide Luna, il ragazzo di 19 anni, protagonista di una vacanza trasformatasi in tragedia. La giovanissima vita si è spezzata lunedì notte mentre il giovane, con alcuni amici, trascorreva in Sardegna quella che doveva essere un meritato momento di relax dopo aver raggiunto il traguardo del diploma. Quella vacanza invece ha spezzato per sempre i sogni del giovane messinese che è ritornato nella sua città in una bara. Davide era partito con degli amici qualche giorno in Sardegna, lunedì aveva passato la giornata al mare, poi in serata il tragico incidente stradale sulla stradale 130 in direzione di Cagliari. Il 19enne messinese è finito con uno scooter noleggiato durante le vacanze contro il guardrail. L'amico che era con lui, anche Lady Messina, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il violente impatto avvenuto poco dopo la mezzanotte ha fatto sbalzare i due giovani dallo scooter facendoli finire sull'asfalto. Per Davide purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una telefonata nel cuore della notte ha comunicato la più terribile delle notizie ai genitori del 19enne che già qualche anno fa avevano dovuto sopportare l'atroce dolore della perdita del fratello. Nelle scorse ore, il momento che nessuno avrebbe mai potuto pensare di vivere, l'ultimo saluto al Duomo di Messina.